Buongiorno e ben trovati al primo appuntamento della giornata con le notizie da web della città, ci colleghiamo come sempre immediatamente con Walter Gerbi per conoscere le notizie di viabilità e sui lavori in corso per la giornata di oggi. Buon venerdì 3 dicembre, le notizie di oggi, controllo velocità sui corsi Grosseto, Giulio Cesare, Peschiera, Vercelli, Sacco Vanzetti, Francia e Strada Aeroporto, presidi dalle 10.14 in via Santo Ottavio e le cooperative sociali, dalle 10.12.30 in corso Siccardi 15 davanti alla sede Coop Servizi Piemonte dei lavoratori chimici tessili, dalle ore 11 Notav, Fronterai, via Verdi 16, degli studenti liceo Alfieri dalle ore 12.15 alle ore 13.45 in corso Dante tra Corso Massimo d'Azeglia e via Madama Cristina. Alle ore 17 in via Arsenale 22 presso la scuola di apprezzione consegna onoreficenze militari, sino a domenica il Torino, scusate, sino a sabato il Torino Film Festival presso il cinema Massimo Greenwich Village nazionale Ambrosio. Ancora oggi al parco Carrara giochi sportivi studenteschi, sino al 23 dicembre al cortile del Maglio e in zona Borgodora, mercatino di Natale. Semafori manutenzioni a Tunisi, angolo via Filadelfia, strada Pianezza, angolo strada casa circondariale e Corso Belgio, angolo Corso Tortona. Ricordate domenica parcheggio a pagamento nella zona centrale della città, la cosiddetta sottozona A. E ricordate che le telecamere delle vie riservate sono sempre accese dalle 7 alle 21, anche la domenica. È tutto, buona giornata, buon fine settimana, buon viaggio dalla Polizia Municipale Torino. Grazie a Valtergermi, noi continuiamo il giornale con le previsioni del tempo, intanto vi diciamo che i dati della stazione meteo di Via Veucci ci riportano una temperatura in questo momento di 3 gradi, ma percepita 1,2, con umidità al 66%. Le previsioni per oggi e per il fine settimana, cielo poco nuvoloso, oggi si esclude la possibilità di precipitazioni, bisogna stare attenti però alla formazione di banchi di nebbia nelle ore più fredde, temperatura minima tra i meno 2 e i meno 5 gradi e la massima può arrivare fino a 5 gradi. Sabato ancora all'insegna del cielo sereno, con temperatura minima ancora in diminuzioni dai meno 5 ai meno 7 gradi. Domenica si attende un peggioramento, un cielo che da nuvoloso in mattinata può passare a molto nuvoloso nelle ore pomeridiane con possibilità di precipitazioni. Passiamo agli appuntamenti istituzionali per la giornata di oggi, alle ore 11 in corso Ferrucci 122, l'assessore Sbriglio partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto Sport all'area libera realizzato dall'associazione Salus in collaborazione con il Comune, mentre alle 18 a Italy, di inizio a 230, l'assessore Ferraris interviene all'inaugurazione della mostra a terra che nunca duerme, di Rachel Normal, organizzata da Etlo Tango in collaborazione con il Museo del Design, GH e Green Mood. Torino Click, online come sempre da ieri sera sull'home page della città, scaricabile in pdf, vi segnaliamo un paio di notizie, intanto si parla in prima pagina di Biennale Democrazia che ci sarà l'anno prossimo, l'edizione 2011 ripropone l'esperienza della partecipazione informata e consapevole dei cittadini, oggi a mezzogiorno a Palazzo Civico nella sala delle colonne sarà presentato il nuovo esperimento democratico sul federalismo, tema proposto appositamente per l'edizione dell'anno 21, che si svolgerà naturalmente nel corso dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Altra notizia importante, viene sospesa la ZTL centrale dal 9 al 24 dicembre, ma restano in vigore le altre. La ZTL del quadreatilo romano continuerà ad essere chiusa al transito e alla sosta dalle 21 alle 7.30 del giorno successivo, compresi i festivi, in piazza Emanuele Filiberto, il divieto è vigente dalle 19.30 alle 7.30 del giorno successivo, l'orario di carico e scarico merci è fissato dalle 10.30 alle ore 16. Vediamo adesso in home page che cosa mostrarvi, oggi parliamo della vetrina di Natale che ritorna, arriva alla sua decima edizione, la vetrina di Natale di Ingegno, bottega d'arti e antichi mestieri della città di Torino, venerdì 5 dicembre a partire dalle 15.30 all'interno della bottega di via Montabello 28 e lungo la via laboratorio di trattenimento per tutto. Saranno presenti il sindaco, l'assessore alla famiglia, la salute e le politiche sociali. Le informazioni le trovate sul momentino dell'inaugurazione che trovate in pdf scaricabile sotto la notizia in un page. Finiamo con le webcam disseminate per la città, la prima che vi mostriamo è quella su Corso Moncaniere direzione sud dove vediamo un certo incolonnamento di traffico, continuiamo con Piazza Aderna direzione sud, anche qui ci sembra essere una discreta congestione, una formazione di coda, il semaforo la vediamo anche in Piazzale Cagliumaio in direzione via Norato-Vigliani e anche Rotondo Manonciano direzione Corso Trieste, il traffico intenso. Bene, per quest'oggi è tutto, l'appuntamento è oggi pomeriggio alle ore 17 circa con le notizie dal web culturale, vi ricordo che oggi esce anche il nuovo numero di Torino Web News dedicato questa settimana alla mostra sulle caricature storiche allestita all'archivio di Stato. Saluto Mario Parreno, lo ringrazio per la messa in onda, l'appuntamento invece con le notizie del mattino torna lunedì alle ore 10 circa, io vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. A presto! Noi! Noi! Ciao! Nei! Noi! Grazie.